è un giorno davvero speciale quando si affrontano due squadre della stessa città ma è ancora più speciale se il falcoscenico è uno stadio come questo e se il sipario si avvicinato due squadre come Inter e Mule Víctor Oziment! La recibe! Lo envia in diagonal hacia la banda. S Homelie's came from the jungle up in the trees. Well that is a good ball to find him. Looking for the runner here. Oh that's a fine challenge. Look! That's really good defending! It's Silva Oh just skips past his man Jumberg Oh it's a big thing And the shots What a save by Seba Kings it across Oh great save And now you'll have to G1 Gittorio! C'è un gol? Il traccio! Okazaki! Che basta! Questo è il ragazzo! Il traccio! Il traccio! Il traccio! Il traccio! Il traccio! Questa potrebbe lasciare qualche livido! Attenzione, attenzione! Qui c'è una rissa! Brahim Diaz! Palla al centro! Impatta di testa! Si! Entrata! Raffaello! Gol capolavoro! La mette in avanti! Che pallone gli ha dato! E' tutto solo davanti alla porta! Dino di Lautaro Martínez! Un gol pazzesco! 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 Pazzesco!